Allora oggi penso proprio che vado in palestra perché I'm on a diet niente se volete avere una piccola, diciamo, update per quelli che sanno che io sono a dieta, stamattina, meno 5 kg, meno 5 kg. Molti di voi mi hanno anche chiesto cosa faccio in palestra e cosa mangio. Allora, mangiare non manzo, no non è vero, come diciamo pranzo una giornata tipo ad esempio risa in bianco con verdure e proteine a pranzo, come spuntino ad esempio ho uno yogurt greco zero grassi che fa veramente schifo, 5 mandorle dentro oppure non lo so frutta, ci posso mettere anche un po' di cannella, l'ho provato la prima volta, la prima settimana di dieta, il primo giorno, no, vado anche in palestra, cioè in realtà la mia palestra per adesso che è il primo ciclo di dieta è soltanto diciamo fare tapirulana e qualche esercizio aerobico e poi ho come secondo spuntino durante la giornata la bresaola, sì 100 grammi di bresaola perché come ho già detto in palestra quindi io di solito andando il pomeriggio inverto gli spuntini perché la bresaola ce l'avrei a scuola ma sinceramente è un po' la figura di merda andare a scuola qualcosa di bresaola e mangiare e quindi la mangio al pomeriggio prima di andare in palestra. A cena mangio o pollo o pesce o... pollo... no niente non mangio un cazzo comunque e la maggior parte questa dieta è fatta, è strutturata su proteine e verdure, infatti i carboidrati io le ho ad esempio soltanto due giorni a settimana, due. Non vedo più pasta, non vedo più pizza, non vedo più dolci, schifezze e cose del genere, il mio mio amico è diventato il mio tappetino per fare gli esercizi aerobici e quindi niente mi scriverò in palestra, una vera palestra a gennaio perché la mia dietologa mi cambierà la dieta e me la strutturerà in modo tale che io posso anche andare in palestra e non morire sul tapirulana. Prima di iniziare il mio workout, devo prendere il mio magnesio. Sono Is Allora, oggi è 8 dicembre, Anna Chiara mi sta facendo il pallettone che devo vloggare per fare un altro vlog, visto che non abbiamo mai tempo di fare un video per il canale, solo che vloggare in mezzo alla strada, nell'area pedonale dove purtroppo io abito, di 8 dicembre non è proprio una roba simpatica, visto che cammini parlando ad un telefono e ti guardano tutti, va bene, non fa niente, tanto penso che già io mi sia sputtanata abbastanza con tutti questi video che stiamo facendo, o in generale io nella vita per chi mi conosce, quindi non se ne frega niente. Oggi sono andata da Zara, ho comprato un paio di cose, perché tra poco vado in crociera, lo so che non me ne frega niente, però io devo dire qualcosa, diciamo, davanti a questa telecamera, quindi tra poco mi vado in crociera e ho comprato delle cose, anche perché è Natale, quindi siamo tutti più buoni, io sono bravissima e quindi mi merito un sacco di regali fatti da me stessa, o dal dolce portafoglio di mia madre. E niente, ora sto tornando a casa, tra 1-2 ore viene anche Anna Chiara a rompermi il cazzo come quasi tutti i giorni, e questa è. Ciao, buon Natale, ci prepariamo all'allestimento. Mi fa male il piede? Ma qua che si ripresa, neanche a pasta! Sono una vlogger, sono una youtuber! Ah, devo riprendere la mia vita! Mamma. Cosa ne pensi di Martina? Niente, io è comunque una brava ragazza, è molto dirigente, è un po' stupida forse. E cosa ne pensi del nostro canale YouTube? Molto stupido. That's why, that's why, per questo ti odio. Ti odio! Allora, non potevo evitare di mettere anche mia madre in mezzo, perché è stata lei l'anima buona che mi ha comprato un sacco di cose oggi, però sono qua perché vi devo dire un segreto. Mia madre è una volpe, lei è una volpe, perché mia madre compra le cose da Zara, poi quando si scoccia, quando si scoccia, lei le va a cambiare, facendo finta di non averle mai messe in vita sua. Mamma, sei una volpe, sei! Sorridi! Cioè, dovete farlo pure voi, perché Zara vi cambia tutto, cioè non se ne frega proprio. L'altro giorno abbiamo dato una pelliccia mezza stracciata dietro, non se ne sono proprio accorti, signori. E intanto oggi mi sono comprata un bel top per Capodanno, così proprio gratis quasi, possiamo dire, perché ti senti meglio quando vai là e non devi cacciare il portafoglio, ma dici solo, va bene, ok, ve lo potete riprendere, datemi il top nuovo praticamente, e io ti do una cosa che magari ho anche messo una volta, va bene, ma qua siamo furbi, capito? Mamma, sei una grande, io ho detto, cioè, lastima vita nei confronti di mia madre, comunque vabbè, parlando d'altro. Mamma, come ti chiami? Presentati! Mario. Vabbè, è un po' timida mia madre, è un po' timida, però le voglio bene anche se è timida. E queste, tra poco viene Anna Chiara che mi farà ancora il pallettone che i miei vlog sono troppo brevi rispetto ai suoi, già lo so, ma sai come, non è che ho fatto chissà cosa, cioè voglio dire, oggi ho dovuto studiare filosofia, perché domani ho compito in classe, cioè, e poi ho preso un caffè con mio padre, wow, cioè sono andata a ballare di sabato sera proprio, cioè, vita loca, signori, e questo è, quindi spero di poter dire qualcosa altro quando mi viene Anna Chiara a rompermi le palle, quindi basta, mi sono scocciata. Marti, sto arrivando! Oddio, stavo prendendo la tua macchina. Amore mio, amore mio! Com'è? Tutto buono. Tutto ciò qua. Che ci sarà mai in questa valigia? È troppo vecchio per fare questo! Si sta. Ti odio! Il gatto se ne scappa. Cioè, questo è il video di cui amami! Per far capire le dimensioni della mia valigia, cioè, ci entro dentro, signori. Ma poi la nostra più bella è che se la vedete in verticale è anche più alta di me. No, non penso. Come scascare la valigia prima? In realtà tutto può essere più alto di te, Martina, anche le mie scarpe. Senti, solo perché sono l'ottavo nano qua, devi prendere il culo! Muori, brutta puttana! Ti odio! Sono sbronzolo! Stronzolo, vorrei dire! È enorme la valigia, porca puttana! Per farmi va dire! Però è compatta! Bella! Cioè, è una cosa più bella! Poi tipo, allora... Bella, ti piace? No, no, ma poi è molto chiuso! Così ci metti tutta roba per andare a fanculo, Marti! Questo è anche multiuso! Nel senso, magari, cioè, sembra una valigia, poi però, quando stai aspettando il turno al check-in, devi... Tipo, ti vorresti sedere da qualche parte... Diventa anche... E così cadde! Continua a morire! Cadde per le scarpe! Va bene, questo lo tagliamo in fello! Aspetta! Diventa anche... Un comodo sgabbello! Va bene, sì, adesso te ne vai prendendo! Ecco, sono 89,95 euro! Se prenotate, tra i prossimi 10 minuti avrete anche lo sconto dello 0,5 euro! E ci troverete anche Martina dentro! Sì, che tristezza! Senti Marti, ma perché studiare quando intostiamo tipo... Guarda, questo è più carino! Bello, eh! Il mio nome top! Sì, però, che c'era! Una puttana! Ma che amiche ho? Mamma, scusa se stai guardando! Sì, Anaglia, non lo studiare, domani ho il copio di filosofia! Sì, scusa mamma, se stai guardando! Sì, è pure Troia! Ciao, Tiziana! Ciao, Tizii! La cosa fantastica è che Anaglia ha fatto il video facendo vedere il suo albero di Natale! Ma io vi devo mostrare il mio albero di Natale! Perché mia madre è una sfaticata! Cioè, siamo a metà dell'opera! A metà, penso, manco! È una cosa indecente! Cioè, ma dopo averlo pitturato di bianco... Non l'ha pitturato veramente! Perché? Vabbè, ok, non l'ha pitturato veramente, ovviamente! Però abbiamo l'albero in casa bianco per essere più... Estroversi, insomma! E sì, è ancora così, praticamente, la stamattina! La Natalia è una chiara con il mio lavoretto di Natale 2012! Marti, quanto è carino! Grazie, avevo 14 anni quando l'ho fatto! Stavo inguaiata! Ok, diciamo che la mera artistica non l'ho mai avuta! Il quadro che Marti ha già avuto la prima mente... Il tuo prima, il tuo prima! Io e Marti abbiamo una mera molto artistica e un giorno a mezzanotte ci sono messi a pitturare... Il mio si intitola Cavallucci Malini! È rosa! Ammirate la beltà, signori! Mentre quello di Martina si chiama Donna In Gravita! Donna In Gravita che aspetta una pace futura! Una pace futura! Questo è il disegno di I Have A Dream di Marti Luther King! Solo che è rosa! Dovevo fare una donna nera! Dovevo fare! Io veramente non ho idea! Cioè, questa è la passione! La passione! Ti stai un brazzo! Anna Chiara poi si lamenta che io non so disegnare, però intanto quello l'ho fatto io! Quale? Quello! Ma vaffanculo Martina! Io questa non me la bevo! Me la bevo tutta una cosa che non me la bevo! La cosa divertente! Perché se l'avevo anch'io per quattro in camera quando avevo queste visate! Una cosa divertentissima è che Anna Chiara crede un sacco di cose che io dico che in realtà Cioè, tutti direbbero che sono strontate! Ti sono fatto dell'albero bianco! Eh sì, l'ho detto a lei! Ho detto a lei! Ho detto... Anna Chiara, hai visto Susa? Cioè, mia madre si chiama Susi! Io la chiamo Susa! Allora, mia madre... Mia madre si chiama Susi! Però lei la chiama Susa! Vabbè, comunque ho detto, guarda Susa che ha fatto, ha dipinto l'albero bianco! E lei ci ha pure creduto! Mentre in realtà l'albero bianco l'abbiamo semplicemente comprato! Per chi volesse avere un update sulla mia dieta, questo è quello che mangio a cena! Nessuno fotte che sembra... Vomito di cane! Anche come è ciuto come hamburger di soia! Eccomi! Bisogna il computer! Grazie! An hour! Sembro pelata! Anna Chiara, tu sei ineficente! Buongiorno! Allora, Anna Chiara è convinta che se noi ci trasferiamo in America abbiamo il culo come Bella Thorne che è un cesso, parliamoci chiaro, è brutta! Fa cagare! Fa cagare anche le pietre! E si è fidanzata prima con Greg Salkin e poi con Tyler Posi! Ma come diamine è possibile? E io sto studiando Schopenhauer! Non è possibile, noi non ci meritiamo questa vita! Basta! Maffa che cavolo! Tu! Eiffo! Dov'è la farina? Fa cagare! Fa cagare! Fa cagare! Fa cagare! Non tu hai capito! Comunque basta! Io devo trasferirmi in America! Perché Schopenhauer dice che anche il più piccolo filo d'erba soffre! Signori! Questa è la frase del giorno! Anche il più piccolo filo d'erba! Può soffrire! C'è! Ma di che cosa stai? E io ho ancora questo pigiama! E voi mi state vedendo da YouTube! Questo per colpato è una roba! Senti io! Mi ammozzo! Sembra che si è facendo una polenta così, ti prego! Bella Thorne che si fidanza con questo ragazzo! Mettere una foto qua! Bella Thorne che si fidanza con questo ragazzo! E poi con quest'altro ragazzo! E quest'altro ragazzo! Domenico dice che siete un po' lente! Cioè questo è il degrado di stasera! Schopenhauer! Ciao sono Anna Chiara, io resta guardando i miei channel!